Vai! Sicuramente è stata una partita della sofferenza, diciamo che è stata una partita più che tecnica proprio del cuore, dopo la brutta, veramente brutta prestazione che abbiamo venuto dietro al di fuori del risultato, proprio per noi stessi e proprio per l'importo della società, per cui anche nei confronti della società dovevamo dare sicuramente una dimostrazione anzi a noi stressi e alla società che avevamo puntato tutti noi che ci siamo ancora e possiamo dire, cioè la nostra, e ottenere quei risultati che avevamo detto all'inizio della stagione. Sicuramente Cagliari è una buonissima squadra, è una squadra di quelle candidate a pre-off, per cui sono stati due punti importantissimi. Ecco, ora dobbiamo cercare di trasferire la stessa energia che usiamo, che abbiamo qui quando siamo in casa nostra, anche fuori casa. Sarà difficilissimo perché a Fenza incontriamo una delle squadre nate e costruite per la promozione, per cui anche lì sarà un impegno abbastanza alto. Però dobbiamo piano piano riuscire a cancellare questo benedetto zero dalle vittorie trasferte.